Ancora un rebus, la dinamica dell'incidente stradale che venerdì notte ha provocato la morte dei due ragazzi di 16 anni di Rotondi, Vincenzo Gallo e Alessandro Mazzariello, compagni di scuola e amici da sempre. Sulla tragedia che si è verificata lungo questo rettilino di via Serau, a ridosso del nucleo industriale, una strada parallela alla statale Appia di Monte Sarchiu, indagano i carabinieri della compagnia locale. Secondo i primi accertamenti investigativi, Vincenzo Alessandro, in sella a uno scooter Liberty 125, si sono scontrati contro un altro scooter, un'onda 125 guidato da un altro minore, anche gli di 16 anni, residente a Monte Sarchiu. L'impatto è stato particolarmente violento. I due ragazzi di Rotondi sono stati sbalzati sull'asfalto per alcuni metri. Un volo fatale, nonostante sembra che le due vittime indossassero il casco. Vincenzo, che sedeva al posto del passeggero, è deceduto sul colpo Alessandro, trasportato in codice rosso da un'ambulanza del 118 all'ospedale San Pio di Benevento, sottoposto d'urgenza a un delicato intervento chirurgico, espirato poche ore dopo. Sempre secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'onda, ammezzo che sempre secondo una prima ricostruzione, era fermo, è ricoverato all'ospedale Fatebene Fratelli. Le sue condizioni non risultano gravissime, ma i sanitari del nostro comio Beneventano lo tengono sotto osservazione. I carabinieri ieri hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza installate presso le aziende situate a ridosso del tragico sinistro. Eventuali video potrebbero risultare preziosi per il prosieguo delle indagini. Intanto le salme di Alessandro e Vincenzo sono state trasferite all'obitorio. A disposizione dell'autorità giudiziaria sarà la procura presso il Tribunale dei minori di Napoli, che coordina l'inchiesta a decidere se sarà necessario seguire l'autopsia. La tragedia ha sconvolto la comunità di Rotondi. I due giovanissimi erano molto conosciuti e amati in paese, così come le loro famiglie. Lacrime e messaggi di vicinanza per aver perso due figli belli di questa terra, sempre insieme, come testimoniano le loro foto pubblicate su Facebook, insieme, fino alla tragica fine.